Musica Signore e signori buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pineta Oggi Reporter, ci troviamo qui negli studi di Radio Chioggia Sottomarina una storica radio, c'era anche la televisione fino a qualche anno fa e qui accanto a me ho proprio l'editore di RCS di Radio Chioggia Sottomarina che ricordo trasmette su FM 98 MHz dunque vi ricordate sicuramente alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80 che c'erano diverse televisioni, diverse radio, c'era il vero pluralismo allora qui accanto a me ho Aristide Ballarin Poppi e come ho detto prima editorialista di Radio Chioggia Sottomarina ex TV Radio Chioggia Sottomarina, ex Telemare 35 allora ho voluto un attimo aprire così un po' in modo provocatorio il pluralismo c'era all'epoca, adesso non c'è più diciamo che una volta più che pluralismo era un assalto alla diligenza per dire la verità c'era anche quello sì piuttosto era quello, l'assalto alla diligenza oggi diciamo che vediamo se oggi diventa un giorno fortunato perché è stato eletto il nuovo Presidente della Repubblica e vediamo se succede qualcosa perché sono 20 anni che siamo stati sottomessi in realtà e ho una storia di quasi 40 anni di radio e televisione dunque una cosa che mi ha sempre dato molta soddisfazione oggi è una giornata, spero che sia una giornata splendida perché abbiamo il nuovo Presidente dunque è da sperare io non è che, io non faccio molta politica ma non partitica voglio distinguere le due cose perché la politica è una cosa importante quello che sto facendo adesso è politica in realtà e non è partitica la politica la facciamo tutti i giorni esatto, la politica viene fatta tutti i giorni da chi protesta, da chi vuole l'aumento di paga a chi perde il lavoro quella è politica in questo mondo non si vive più per il semplice fatto che chi fa invece la partitica che dovrebbe fare la giusta politica per coloro che abbiano bisogno non la fanno mai non la fanno assolutamente mai tendono solamente a fare gli affaracci loro questa è un'opinione pubblica e quando tutti dicono così vuol dire che potenzialmente è la verità questo è il concetto e poi il pendolo in questi ultimi anni a destra, sinistra, destra, sinistra a turno facevano la non politica perché i risultati noi giornalisti guardiamo i risultati i risultati sono veramente nefasti ma veniamo a te tu hai aperto quando? la prima, diciamo, emissione diciamo che io prima di aprire la radio e non sapevo neanche cosa fosse cioè la radio la conoscevo perché già all'inizio degli anni 50 io ascoltavo la radio però sapevo che era un mezzo bellissimo per il semplice fatto che si immaginavano le cose e ancora oggi è così chi ascolta la radio immagina quello che lo speaker racconta e allora a questo punto c'è sempre questa fantasia la televisione è una cosa molto più fredda tutto sommato perché se non ti piace cambi stazione e invece per radio se qualcuno parla in maniera diversa del tuo pensiero stai lì a ascoltarlo perché dici vediamo cosa dice questo cretino mi spiego per televisione no perché quando lo vedi già prima che parli potresti anche cambiare canale questa è la situazione io ho cominciato a fare radio facendo più che facendo collaborando con dei ragazzi più o meno della mia età a costruire un programma radiofonico per Radio Capodistria siamo andati avanti circa a 4 anni all'inizio degli anni 70 naturalmente perché non c'era possibilità siccome avevamo anche delle orchestre che suonavano eccetera a me interessava anche produrre programmazioni musicali eccetera abbiamo fatto questo programma si chiamava Speciale 14 purtroppo Capodistria ha perso questo materiale e qualche anno fa sono venuti qui a chiedermi questa programmazione come che veniva fatta le trasmissioni a che ora andavano in onda eccetera e da lì ho imparato a fare un po' chiamiamo radio ma la radio è un'altra cosa per dire la verità non è fare una trasmissione di un quarto d'ora di 20 minuti musicali e fare la radio vuol dire 24 ore con tutto quello che ne va dietro quindi creare un palinsesto diciamo una programmazione esatto io non conoscevo la parola palinsesto l'ho imparata in quegli anni e allora mi sono mi sono pensato di fare la radio io invece di andare a Capodistria dico adesso risparmiamo i soldini perché Capodistria costava la cifra si pagavano 180 mila lire all'epoca all'inizio degli anni 70 per una trasmissione di un quarto d'ora non è che te la regalavano lo spazio lo dovevi pagare però con le capacità che avevamo trovavamo anche gli sponsor eccetera per sopperire e continuare di fatto questa trasmissione l'abbiamo fatta per quattro anni dopodiché abbiamo io ho pensato di fare la radio facciamo la radio qui a Chioggia sottomarina sì non c'era nessuna normativa dico tentiamo quando la mi va male mi butteranno in galera ma poi dovranno anche mantenermi e allora sotto questo profilo ecco il discorso dell'assalto alla diligenza io ho assaltato una diligenza e ho cercato di carpire sapevo che la RAI non aveva rifatto i contratti che aveva ventennali per quanto riguardavano le frequenze eccetera allora ho detto beh se non c'è nulla e non c'è nessuna legislazione faccio la radio ho fatto la radio nel 76 inizio del 76 comunque non era l'assalto alla diligenza diciamo è stata una sperimentazione l'assalto alla diligenza l'hanno fatto in network prendendo le frequenze locali questo vale anche per la televisione e hanno fatto loro l'assalto alla diligenza hanno creato il monopolio ma io penso che all'epoca tua cioè era una sperimentazione e genuina anche beh una sperimentazione diciamo siamo sempre partiti così cioè come come siamo oggi non abbiamo le stesse attrezzature non abbiamo le stesse cose però in realtà già nel 76 facevamo i notiziari facevamo quattro edizioni dei notiziari facevamo determinate cose abbiamo fatto nel mese di giugno ricordo del 76 in diretta abbiamo fatto c'erano le elezioni quelle nazionali e nei seggi avevamo dislocato delle persone che ci davano comunicazione nello spoglio dunque già facevamo determinate cose che adesso non le facciamo più perché sarebbe troppo complicato a parte che sarebbe più facile per esempio via internet l'amministrazione comunale ti passano i dati sarebbe molto più facile oggi però quella volta la gente voleva sapere subito voleva sapere chi aveva vinto le elezioni era il giugno del 1976 me lo ricordo come se fosse oggi qualche diciamo a maggio c'è stato il terremoto in Friuli e già io trasmettevo e in giugno ci sono state le elezioni nazionali ecco è stata quindi un'esperienza molto molto forte devo dire no? e si chiamava sempre Radio Chioggia Sottomarina il nome non è mai cambiato Radio Chioggia Sottomarina però adesso la chiamiamo Radio Chioggia Sottomarina Baby Radio perché è un po' più raccolta prima avevamo idee di espansione di l'abbiamo fatto eccetera però non non serve più di tanto è un bellissimo locale possiamo dire così si si la radio potrebbe essere anche nazionale come programmazione ma da un punto di vista di segnale tecnico è un buon locale un locale qui in centro e non solo anche nella nella zona verso Venezia cioè nella periferia voglio dire tra le due città si ascolta molto bene sì ma poi la tecnica ci verrà il contro un po' a tutti perché anche le piccole potranno diventare nazionali in realtà per il semplice fatto che facendo anzi europee o mondiali anche perché con il sistema con il sistema internet noi arriviamo dappertutto dunque abbiamo ascoltatori che ci chiamano dalla Cina immagina te che è già difficile dunque parliamo in italiano qualche italiano che va in Cina ci ascolta ci telefona dice cavoli ragazzi qui si sente perfettamente poi allora questa tecnica dico mettere una schedina in una macchina in un'automobile dove adesso abbiamo tutto e mettere una schedina per poter anche contattare via internet chi vuoi e a questo punto hai la radio in macchina sembra un po' il futuro Popi il futuro è la cosa più semplice del mondo uno la puoi ascoltare al cellulare la puoi ascoltare dove vuoi dunque avere queste mire espansionistiche e consumare tanta tanta benzina tanta corrente elettrica perché la corrente costa un patrimonio non vedo il caso perché eh no eh no e qui comincia a esserci la caduta degli dei perché a questo punto chi voleva essere grandiosi in realtà si ritrovano che hanno le bucce delle patate esatto quindi ecco che le locali hanno diciamo con sé la tecnologia gli viene incontro la tecnologia la nuova tecnologia poi perché abbiamo il tempo che stringe c'è stato fatto un passo molto importante qui a Chioggia Sottomarina perché è nata la televisione cioè tu hai fondato TV Chioggia TV Radio Chioggia Sottomarina RTV Chioggia Sottomarina e poi successivamente quando il segnale è diventato regionale sul 35 la Telemare 35 perché quando ho fatto la televisione ho fatto per due anni TV Radio Chioggia Sottomarina e diciamo che era veramente sperimentale se non che avevo le apparecchiature di trasmissione eccetera però era sperimentale proprio sperimentale facevamo con una telecamera in bianco e nero la ripresa degli studi all'epoca degli studi radiofonici e trasmettevamo le trasmissioni radiofoniche anche in tv quello che stanno facendo adesso i grandi network lo facevamo 40 anni fa non è che era l'unico modo per sopperire a programmazioni di un certo tipo che erano le programmazioni televisive vere e proprie poi è nata successivamente qualche un anno dopo anche Telemare su due canali 22 e 35 22 locale 35 era regionale mi sembra dei ben vicino certo aveva due canali e allora poi c'è stata una disgrazia un titolare è morto e allora i soci di Telemare sono venuti da me e hanno detto Poppi cosa facciamo facciamo ci mettiamo assieme facciamo un'unica televisione visto che tu hai anche apparecchiature televisive eccetera e hai esperienza più di noi facciamo assieme e così abbiamo fatto la Telemare la nuova io ricordo bene sebbene sono passati un po' di anni io andavo a scuola però me la ricordo bene perché è stato un po' un input per me per poi avvicinarmi a questo mondo dei media perché veni a visitarla da Telemare lì in via alle stazioni e dunque era radicata nel territorio c'erano delle trasmissioni molto importanti il folklore veneto ad esempio con Elio e Bepi poi c'erano anche dei giochi in studio e quindi c'era un po' un intrattenimento del pubblico c'erano i documentari c'erano gli ottimi film c'erano le dirette dal territorio ad esempio il Carnevale eccetera e poi altre cose che adesso mi sfuggono una volta addirittura i giochi senza frontiere quando sono venuti qui cioè era una televisione veramente che parlava di Chioggia Sotomarina della città e la gente era contenta beh una televisione locale deve essere così non può fare quello che fanno gli altri io sono stato a una riunione di televisioni a Santa Margherita Liguri nel 1980 e lì si parlava di 27 milioni all'ora per le trasmissioni televisive 27 milioni ora e lì c'era Berlusconi c'era la Rai c'erano tutti e quella era la spesa che uno doveva sopportare per poter fare un'ora di trasmissione noi la facevamo con qualche volta anche con zero lire dunque i film a noleggio costavano perché si sono sempre costati però in realtà se fai la produzione propria ci vuole tanto volontariato se c'è un parecchio volontariato locale riesci a fare anche delle belle cose solo che non hai quella spinta a livello che ti fai vedere da tutta la regione e in realtà fai cose del luogo è ovvio che pubblicitariamente non ha quella presa necessaria per poter far pubblicità di un certo tipo mi spiego e allora se non entri in quel circuito che malvagio io lo chiamo così se non entri in quel circuito di pubblicità nazionale e sei costretto a vedi quello che sta succedendo perché molte radio piccole non ce ne sono più hanno chiuso hanno ceduto e su questo stoppiamo un attimo perché abbiamo il tempo ma rimani qui fermo perché abbiamo il tempo ormai che sta proprio agli sgoccioli noi diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori per la prossima settimana per una seconda puntata proprio su questa tematica perché merita veramente intanto vi auguro una buona serata grazie a tutti